è un filo chiuso, mongolo ti entra più gente col filo chiuso io lo so bene, lo so bene ma dai, ma dai la vado a ritirarla levati al cazzo, dai, su levati alla misa allora, allora se la per il filo chiuso, mongolo ma che cazzo è un filo chiuso io lo so bene, lo so bene con tutti quelli che entravano in live ma dai, ma dai è un filo chiuso, mongolo ti entra più gente col filo chiuso me lo so bene, me lo so bene ma dai, ma dai, ma dai mi sono un po' più piccato la vado a ritirarla io l'ho a ritirarla io l'ho a ritirla ma dai, ma dai io lo so bene ma dai 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 e e e e e e e e